Vediamo se la storia di Gianpaolo riesce a riaprire questo discorso, questa partita. Era con il premio per lo sdebito primo tempo, assolutamente meritato, ma arriva con di nuovo l'aiuto del portiere. C'era stato lei? Eh sì, assolutamente, perché qui Buker è bravo a calciare, insomma, ma la palla non è velocissima, e soprattutto la manca quasi, insomma, la sfiora con l'avambraccio, non la prende con la mano.